buongiorno a tutte e tutti e benvenuti in una nuova puntata di io non mi rassegno la rassegna stampa quotidiana d'italia che cambia che ogni giorno alle 10 per 10 minuti dal lunedì al venerdì vi tiene compagnia e vi racconta quello che succede nel mondo oggi in realtà è una puntata un po particolare innanzitutto perché non siamo in diretta siamo registrati e in secondo luogo perché non parliamo di tante notizie come facciamo di solito ma ci concentriamo su un argomento specifico ovvero la plastica allora proviamo a riassumere innanzitutto un po la questione sul finire dell'ottocento viene inventata la plastica che è questo materiale praticamente indistruttibile con cui si possono fare un sacco di cose diverse e visto che avevamo inventato un materiale praticamente indistruttibile come umanità ci siamo detti beh per cosa si può usare perché non lo usiamo per fare cose usa e getta il che mi sembra un'idea abbastanza sensata tant'è che tanto sensata che 130 anni dopo all'incirca ci ritroviamo con la plastica che è praticamente ovunque è nei mari in tutti gli ecosistemi è nel cibo che mangiamo ed è anche dentro di noi dalle ultime ricerche quali soluzioni ci siamo inventati per rispondere a questo problema la prima la prima cosa che ci è venuta in mente è stata la raccolta differenziata inventata 40 anni fa negli stati uniti e che ai tempi quando è stata inventata sembrava effettivamente una soluzione una soluzione sensata ora a 40 anni di distanza è il momento di chiederci è ancora così allora capiamo innanzitutto come funziona la raccolta differenziata tutta questa plastica che utilizziamo che produciamo innanzitutto che poi utilizziamo e che alla fine buttavamo via non sapevamo più bene cosa farci a un certo punto decidiamo che la potremmo mettere tutta assieme e provare a riciclarla quindi a riutilizzarla di nuovo sminuzzarla finemente farci dei nuovi materiali che poi vengono fusi e per con cui si possono fare nuovi oggetti e così via potenzialmente all'infinito appunto sembrava una buona idea se non che ci sono delle criticità che poi col tempo si sono rivelate abbastanza grosse innanzitutto questo tutto questo meccanismo si applica solo ai rifiuti urbani ovvero i rifiuti che produciamo noi in quanto cittadini quelli che buttiamo via nel cassonetto e che poi viene la azienda municipale a raccogliere eccetera eccetera il problema è che quei rifiuti sono solo il 20 per cento del totale dei rifiuti l'80 per cento quindi la fetta più grossa è composto da rifiuti speciali che sono i rifiuti delle aziende delle industrie di coloro che le cose le producono e su quei rifiuti in realtà ci sono delle leggi ovviamente ma la loro gestione è lasciata al mercato quindi domanda e offerta non solo fra l'altro la raccolta differenziata non riguarda neanche tutti i rifiuti urbani riguarda solo una parte dei rifiuti urbani ovvero gli imballaggi cioè non riguarda gli oggetti insieme ma riguarda gli imballaggi questo per dei motivi legali burocratici su come è nata perché se ne occupano le aziende eccetera eccetera qui non è neanche tanto importante andare nello specifico ma è più che altro per far capire che stiamo parlando di una percentuale abbastanza piccola dei rifiuti ma non è finita qui perché cosa succede succede che i materiali che otteniamo dal riciclo in genere hanno una qualità molto più bassa rispetto a quelli vergini per così dire perché tendiamo a mischiare più cose insieme allora torniamo all'esempio della plastica in realtà la plastica non è un unico materiale ma sono tanti polimeri diversi cioè sono tante plastiche diverse il che è grandioso quando si tratta di produrre le cose perché ognuno può fare la sua plastica un po come gli pare quindi creare il materiale più adatto a costruire l'oggetto che vuole realizzare ma è terribile quando invece si tratta di riciclare alla fine perché non per tutte queste plastiche ha senso dal punto di vista economico mettere in piedi delle filiere del riciclo quindi per alcune magari sì ad esempio il pet quello con cui si fanno le bottigliette di plastica ce ne sono tante quindi ha senso fare una filiera del riciclo dedicata al pet anche se comunque nonostante questo anche con le bottigliette di plastica riciclate non si fanno altre bottigliette di plastica ma si fanno ad esempio delle magliette e poi con le magliette riciclate si possono fare dei dossi stradali e con i dossi per le strade poi dopo non si smette di riciclarle perché non si può fare più niente quindi comunque il materiale peggiora ad ogni ciclo e questo succede per le plastiche più utilizzate se invece passiamo a parlare di tutte le altre plastiche per cui non ha senso costruire un fare un discorso del genere quello che si fa è si mettono tutte insieme si creano queste balle di plastica indistinte magari anche sporca chiamate plasmix di cui nessuno sa esattamente cosa farsene fino al 2017 venivano vendute principalmente alla cina che importava tutto questo plasmix e nessuno sapeva neanche lì esattamente cosa ci facesse dall'inizio del 2018 anche la cina ha smesso di importarlo e quindi tutta l'industria mondiale del riciclo non solo della plastica è andata in tilt e adesso ci ritroviamo nella situazione in cui ci sono capannoni in giro per l'italia ad esempio in cui viene stoccata la plastica in attesa di essere riciclata che nessuno compra e che poi vanno a fuoco i capannoni e la plastica contenuta al loro interno in alcuni casi semplicemente per motivi chimici in altri probabilmente perché è più conveniente riscuotere l'assicurazione piuttosto che tenere in piedi un magazzino di che si occupa di plastica riciclata quando la plastica riciclata non ha più quasi nessun valore commerciale siamo al punto in cui c'è chi inizia a chiedersi se abbia ancora senso riciclarla alla plastica è uscita da poco uno studio del MIT in cui diciamo il ricercatore propone di smettere proprio di riciclarla e di dedicare le nostre energie mentali a cercare soluzioni più efficaci insomma la raccolta differenziata non sta più funzionando o forse non ha mai veramente funzionato per quasi tutti i materiali c'è un'unica grossa eccezione che è quella dei rifiuti organici e degli impianti di compostaggio industriale per cui invece ha molto senso perché in quel caso si riesce effettivamente a chiudere il ciclo quali altre soluzioni ci rimangono quelle che attualmente vanno per la maggiore sono le cosiddette campagne plastic free da cui anche il titolo di questo video e che spesso si appoggiano all'utilizzo di materiali alternativi fra cui le bioplastiche solo che anche in questi casi nel caso del plastic free e delle bioplastiche o plastiche compostabili non sono esattamente sinonimi ma facciamocelo andare bene perché sennò diventa ancora più complicata la faccenda ci sono un sacco di problemi che spesso non consideriamo e che invece andiamo a vedere allora cominciamo proprio dalle bioplastiche che hanno dei problemi tutti loro le bioplastiche sarebbero delle plastiche che possono essere compostate possono essere gettate per farla semplice nel bidone dei rifiuti organici e che se si biodegradano allora anche qui in realtà parliamo di un sacco di materiali diversi non c'è un unico tipo di bioplastica anche qui in realtà parliamo di un sacco di materiali diversi ma se per esempio ne prendiamo una delle più diffuse il pla servono 11 tonnellate di canna da zucchero per fare una tonnellata di pla quindi un sacco di materia prima e un sacco di energia utilizzate in questo processo di lavorazione poi tra l'altro le bioplastiche hanno il problema che essendoci la parola bio davanti confondono un po le persone perché in tanti sono erroneamente portati a pensare che la bioplastica può essere abbandonata ad esempio in ambiente in realtà abbandonata in ambiente la bioplastica fa esattamente gli stessi danni della plastica tradizionale quindi per intendersi la tartaruga ci si strozza anche con la bioplastica quindi non cambia niente a quel punto di vista perché è sì compostabile ma all'interno di impianti di compostaggio industriale e non solo fra l'altro perché anche negli impianti di compostaggio industriale è tollerata solo una piccola percentuale di bio plastiche rispetto a tutti i rifiuti organici nel complesso intorno al 6 per cento dopodiché si impalla non riescono più a funzionare bene e quindi in realtà con l'aumentare di questi rifiuti tanti impianti stanno iniziando a non accettarli più perché smetterebbero di funzionare quindi pensare di sostituire tutta la plastica con la bioplastica manderebbe in tilt anche l'unico l'unica filiera del riciclo che riesce a funzionare effettivamente bene che è quella dei rifiuti organici se dalle bioplastiche poi passiamo a il plastic free in generale ovvero queste campagne che hanno iniziato a lanciare comuni supermercati aziende anche in questo caso il discorso non cambia più di tanto perché queste campagne si basano quasi sempre sull'idea di sostituire la plastica con altri materiali che possono essere appunto le bioplastiche oppure può essere la carta il legno il bambù ma la verità è che non esiste al mondo nessun concetto nessun materiale con cui realisticamente si possa sostituire la plastica nella quantità e nell'utilizzo che ne facciamo sarebbe folle pensare di sostituirla ad esempio non so con la carta o con legno perché dovremmo disboscare mezza amazzonia per farci tutta questa roba o se lo sostituissimo col bambù dovremmo togliere terreni anche qui o alle foreste o ad altre coltivazioni per piantare intere piantagioni di bambù per fare la bioplastica non se ne esce il fatto è che non si può sostituire uno a uno la plastica con nessun altro materiale e questo perché la plastica non è il problema ma è il sintomo noi concentriamo ad accanirci sul sintomo ma non vediamo la malattia che ci sta dietro la malattia si chiama consumismo si chiama sovraconsumo delle risorse si chiama economia lineare si chiama usa e getta non possiamo più permetterci di estrarre tutte queste risorse che il pianeta non riesce a rigenerare per creare tutti questi oggetti che diventano in brevissimo tempo queste montagne di rifiuti non lo possiamo più fare e dobbiamo invece iniziare a estrarre molte meno materie prime con le quali fare meno oggetti che magari durano più a lungo sono più facili da riparare si possono a fine vita smontare dobbiamo inventarci delle soluzioni di riuso o dei contratti che facilitano facilitino l'utilizzo condiviso delle risorse o il noleggio ecco queste cose iniziano ad essere delle soluzioni reali nel nostro piccolo è importante tenere a mente due concetti usare meno risorse e produrre meno rifiuti poi all'inventiva di ognuno trovare le soluzioni migliori per la propria vita che possono essere fare spesa principalmente di prodotti alla spina usare non so cercare di comprare meno oggetti in generale usare la borraccia invece di comprare le bottiglie le bottigliette di plastica ma anche lì una borraccia non importa che ne abbiamo 15 a testa e così via è ovvio che sono soluzioni più difficili da applicare rispetto a sostituire le stoviglie usaggetta in plastica con quelle usaggetta in bioplastica perché richiedono il cambiamento delle nostre abitudini e sappiamo bene che l'essere umano è un animale abbastanza abituale quindi ci risulta più difficile e non solo ci risulta più difficile a noi come singoli individui ma è anche più difficile per la società adottare questo tipo di soluzioni perché tutto questo sistema che abbiamo creato si basa sulla crescita crescita del pil crescita dei consumi crescita dell'economia in generale crescita della popolazione e quando qualcosa quando all'interno di questo sistema qualcosa smette di crescere va in tilt non funziona più perché tutto è basato su quella funzione lì pensiamo a un'economia statale in cui quando il pil di un paese smette di crescere non funziona più perché non sta più in piedi la sua relazione con il debito pubblico o pensiamo anche al sistema pensionistico che si basa e sta in piedi finché la popolazione cresce e quindi ci sono più persone giovani che lavorano che persone anziane che stanno in pensione tutto si basa su questa cosa qui quindi inevitabile che mentre facciamo questi cambiamenti nelle nostre abitudini e in come produciamo gli oggetti dovremo cambiare anche il sistema nel suo complesso ma questa inizia a diventare una questione un po più grande di cui magari parliamo un'altra volta perché oggi abbiamo già messo un sacco di carne al fuoco va bene io direi che per oggi può bastare così quindi vi saluto vi do appuntamento a lunedì sempre alle 10 sempre per 10 minuti con il mio rassegno buon weekend e ricordatevi chi si rassegna è perduto